Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Iniziamo questo 2017 con un favoloso a tema invernale perché da me fa freddissimo, c'è la neve, non ho mai visto tanta neve in vita mia qui nel Salento e se volete anche se andate alla fine del video vi faccio vedere un pezzettino della neve che c'è a casa mia. Iniziamo subito con il decorare i refill con un washi tape blu tutto brillantato perché appunto mi sa proprio d'inverno e se avete notato ho cambiato refill per l'ennesima volta, sì, non sono mai contenta ma penso che questa volta finalmente sono riuscita ad ottenere il risultato che più mi piace e queste sono i refill che di più adoro in assoluto. E quindi alterniamo anche utilizzando degli washi tape più piccolini, sempre azzurri e brillantati che ci stanno benissimo. E quindi appunto andiamo a rifinire tutta quanta la parte iniziale di questo refill stupendo. Quindi iniziamo il lunedì con questo fantastico, diciamo, partner, non so come chiamarlo, con gli ozzetti e appunto utilizzerò dei colori sull'azzurro, sul tipo azzurro tiffany e il verde. Come sapete la mia settimana non è molto impegnativa, c'è più che altro faccio sempre le stesse cose, quindi non è che scrivo chissà quanto. Preferisco decolarla e il 9, il mio fidanzato facciamo 9 anni e 4 mesi. Sì, lo so, forse è passato un po' di tempo per festeggiare ancora per i mesi, però comunque ci diamo gli auguri e mi piace tantissimo. Quindi scrivo come sempre quello che dovrò fare quel giorno e per la maggior parte magari lo lascio anche vuoto perché poi lo inserisco man mano. Ho trovato finalmente degli sticker per youtube fantastici che mi permettono di scrivere finalmente quello che carico ogni settimana. questo bellissimo, questa bellissima volpina con il cappellino sopra è fantastica e poi sempre con lo stesso sticker vado ad inserire due altre elenchi tra virgolette che poi mi permetteranno di inserire quello che devo fare. Adesso sono un po' indecisa su quello che devo inserire. Mi rendo conto che qua è un pochino vuoto e ci metto anche un'altra scritta perché ci sta bene sempre e continuo a decorare il mercoledì. Come avete visto magari se si creano parecchi spazi perché gli sticker sono più piccolini inserisco altri pezzettini di sticker o magari dei flag che mi vanno a riempire un po' il tutto altrimenti sarebbe troppo vuoto. Poi mercoledì mi toccano le pulizie, devo togliere il presepe, ahimè sì è finito Natale e perciò devo pulire anche il bagno e anche il salone perché sicuramente ci sarà il macello dopo aver tolto tutte quante le cose di Natale. Poi continuiamo a decorare un pochino sempre sullo stile del verde con un bel cuoricino perché mi sembrava un pochino troppo vuoto quell'angolino lì e continuiamo a decorare il giovedì. Adesso passiamo un po' sul verde e metto questo bellissimo sticker con il pinguino che rimarrà vuoto perché magari devo andrò ad inserire negli appuntamenti futuri e anche in questo caso che pubblico un altro video il giovedì lo vado ad inserire qui nella parte appunto superiore. Poi continuo il venerdì utilizzando un altro sticker sul verde e sull'azzurro e inserisco anche un pupazzo di neve carinissimo anche anzi una pupazza di neve perché è femminuzza per farmi capire il freddo che fa perché veramente vi assicuro che fa freddissimo e poi inserisco anche un mini sticker quale cosa da fare che appunto lascio in bianco. Il sabato o la domenica questi rifiuti li ho creato proprio apposta perché volevo qualcosa per decorare il sabato o la domenica perché in quelli precedenti avevo poco spazio e quindi diciamo che mi posso sbizzarrire anche in queste giornate magari un po' più rilassanti però comunque volevo decorarle. Il sabato mattina mi dedico principalmente a registrare i video e ridarli per quello che posso perché sono più libera anche dal tirocinio e poi la domenica che sicuramente farò un pranzo con i miei parenti metto questa specie di budino non so cosa sia per farmi appunto capire che mangerò e non finisco mai di mangiare ragazzi impressionante. Poi finalmente riesco a mettere la scritta weekend perché questi refill sono bellissimi per questo motivo ed inserisco un altro pupazzo di neve. Infine finisco tutto con il rifinire i refill per poi inserirli nell'agenda e appunto prendo l'agenda e faccio proprio questo e li inserisco lì. Quindi niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se è così mi raccomando fatemelo sapere con tanti like e iscrivetevi al canale ancora se non siete iscritti per non perdervi tutti quanti gli altri video. Vi mando un grosso bacio mi raccomando fate bravi e noi ci vediamo al prossimo video ciao. Situazione attuale nel mio paese cose mai successe vabbè scusate lo stendino però è un balcone cioè impressionante a paesaggi mai visti il mio paese non ha mai indicato così cioè è impressionante magari tutti voi capitano al nord e mi direte figurati noi lo vediamo sempre ma io ho quasi 30 anni non ho mai visto questa neve cioè guardate quanta neve guardate sul balcone quanta neve c'è assurdo e anche il tempo che sta arrivando è dei migliori vi metto anche qualche foto poi delle mie spiagge completamente innevate e anche per la mia spiaggia. Grazie a tutti.